Buon appetito! Perché vogliamo essere sempre più vicini ai territori, specialmente ai territori come questi che sono un po' ai margini, che sono un po' lontani dal centro e hanno bisogno di un'attenzione particolare, un po' in controtendenza rispetto a quello che è lo smaltellamento dei servizi della montagna. Noi crediamo che per rappresentare bene le persone bisogna essere vicini alle persone per capire quali sono i reali bisogni e cercare di dare delle risposte concrete che risolvano sostanzialmente i problemi concreti che hanno quotidianamente. Questo lo deve fare tutta la politica, lo devono fare le associazioni come la nostra e per questo abbiamo deciso di fare questo investimento. Qui chi si rivolge alla nostra sede può trovare dei professionisti che sono in grado di risolvere molteplici questioni di lavoro relativi al fiscale e relativi al patronato e anche dei volontari che si prestano a collaborare e ad ascoltare le persone proprio per dare queste risposte. La transizione tecnologica rischia di lasciare soli alcune persone, soprattutto le persone anziane, ma non solo, bisogna stare in campo per aiutarli affinché il lavoro debba sempre servire alle persone e non viceversa, cioè le persone che non debbano essere sfruttate o peggio ancora emarginate da quello che è il processo di evoluzione. Questo è un po' il senso dell'investimento che noi facciamo a Clusone e cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che operano anche gratuitamente all'interno della nostra sede. La FNP, la Federazione Pensionati della CISL, ha adesso una sede più grande, più funzionale a Clusone. È stata proprio la FNP a spingere per questo ampliamento e questa riqualificazione della sede con quali obiettivi? Allora, l'obiettivo è sostanzialmente quello di continuare ad essere punto di riferimento per le pensionate e i pensionati e per tutti i laboratori e lavoratrici di Clusone e della media alta valle seriana presso la sede di Clusone. È una sede che è stata rinnovata e ampliata per renderla più accogliente, per far sì che la gente che entra all'interno della sede della CISL e dove troverà anche una nuova sede della FNP si trovi sempre più a suo agio, si trovi a casa propria. Per quanto ci riguarda l'investimento lo abbiamo fatto rispondendo anche alle tante sollecitazioni richieste delle pensionate e dei pensionati, i nostri volontari, che presso questa sede operano da tanto tempo e continueranno ad operare. Qui accoglieranno gli iscritti e tutte le persone che entreranno nella sede della CISL di Clusone per dare risposte dal punto di vista dei servizi, patronato, fiscale, ma anche per essere un punto di riferimento e di ascolto che tante volte è molto importante all'interno delle nostre comunità. Grazie.